eccoci e bentornati sul mio canale finalmente ci siamo la campagna di call of duty mother warfare ragazzi quanto l'aspettavamo vi aspetto soprattutto oggi live su twitch trovate tutti i link nel primo commento su twitch su instagram su telegram e su tutti i vari social per non perdere nessuna notizia sul mondo di call of duty oggi giocheremo il multiplayer e le special ops in vostra compagnia quindi dopo la campagna vi aspetto su twitch partiamo subito con la campagna che avevo lanciato per vedere appunto le impostazioni direi di fare subito la nuova partita partiamo con semplice così ce la possiamo gustare e poi me la andrò a giocare in privata su realismo la nostra guerra non è per la nostra fede combattiamo per cacciare tutte le potenze straniere dal nostro territorio noi siamo al katala siamo gli assassini combattiamo senza remore andiamo in guerra senza la minima pietà è il solo modo in cui vivono e muoiono i veri soldati 24 ore prima ecco 3 1 a capo charlie 2 mi ricevi capo zona di atterraggio in vista i nostri sono in orario colonnello ricevuto 3 1 le squadre hitman sono pronte all'assalto potete procedere colonnello abbiamo un problema siamo operativi è troppo tardi non finché lo dico io watcher a 3 1 puoi ricevermi capo sezione laswell in ascolto il generale barkov ha inviato altro gas al suo deposito i suoi mercenari lo trasferiranno in urzikstan questa notte ci sarà più resistenza del previsto potrete ingaggiare ma non aprite il fuoco niente incidenti internazionali non possiamo sapere se i russi faranno altrettanto ricevuto alex, voi trovate il gas, prendete il camion di barkov e andate via prima che c'è ricevuto watcher, ci siamo andiamo inquadre hitman, portarsi in posizione ricevuto, in movimento dobbiamo fare presto, gli uomini di barkov trasferiranno il gas a stanotte probabilità di trovare il generale barkov dubito che si farà vedere da queste parti la prima sensazione è veramente bella ragazzi molto immersivo graficamente spinge tanto attenzione ne sento due ottimo due mercenari, niente uniforme a terra, via libera ricevuto, appostarsi sul crinale e controllare la zona ecco 3-1 a Blue Viking 5 attacco richiesto, attendere conferma bersagli ricevuto 3-1, Viking in attesa perlustriamo l'area, controlliamo che non ci siano militari russi un veicolo al cancello principale mezzo da trasporto medio trasporto per il gas veicolo in movimento mezzo di pattuglia, mercenari sicurezza, bersagli validi nessuna presenza militare russa procedici oh, richiedi attacco aereo addirittura Blue Viking 5 attacco ravvicinato sul bersaglio oh, guarda oh, guarda che figata ti attaccano pure, regà guarda che figata il tipo fa i scade nel mondo ecco, l'attacco la ti passa guardate che delirio ci stanno già sparando oh, 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 oh bello ecco 3-1, bersaglio colpito Viking in rientro, buona caccia grazie Viking adesso facciamo da soli ecco qua l'hiamo fatto incazzare era partita già la sirena ecco, bene attenzione nemici multipli a piedi non ce lo fa attivare il sensore notturno un po' la mira assistita è un po' troppo esagerata qua nella campagna qualcuno ha giocato con il fuoco così imparano ad armeggiare con quella roba dopo da sistemarla un attimo ok, guardate comunque quanto spinge oh, regà cioè, decisamente migliorato mi puoi fiammi non fa giusto pomoguiti diamogli il colpo di grazia bastardi infatti quelle però le sa come dentro i personaggi fatta bene la conformazione si nervi sempre quanto ci abbiamo? ah, ci abbiamo la pistola ah, fammi via la K12 l'M4A1 ok occhio, dobbiamo irrompere all'accesso forza si può comunque cambiare la madonna è trincerato fuoco di soppressione saliamo si vuole stipite per posizionare l'arma e restare al riparo ecco è sottotiro a cerchiare di eliminare forza prendiamo il gas prima che lo spostino via 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 movimento non lo vedo in marcia mi sta in fronte è calderata la la mira assistita e basta in questo caso spostati quando la luce si muove via 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 e basta no 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 non mi ammazzare no 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 Porca miseria, bastarde, le granate Pure sulla campagna rompono le scatole Non si fa passare nessun'altra parte? Ecco, canacce Non si fa passare Ah, non si fa passare un po' Ok C'è un po' di cattiveria qua dietro Via, 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 via Ok, via, via, via Via, via, via Via, via, via Mamma mia Me la so vista bruttissima Me la so vista bruttissima ragazzi Mazza che aggressività Sta modalità Ok, la posso prendere, via Bello Mitragliatrice K.O. Ben fatto, sia Bello così A posto? Vieni un po'? Mi sembra libero ragazzi Che c'è da aspettare, raga? Ok, porta In marcia In marcia Un nemico a sudore Vici in fuga Corrono verso il magazzino Beccato Vuole me Via Un martaglio Beh, c'è sta prendendo un po' la mano Questa mira assistita Però ho lasciato la standard Libero Il gas deve essere dentro Se non è troppo tardi Questa comunque è la mappa del multiplayer Gunrunner L'ultima che hanno introdotto Poi nella beta Libero Vai Sì, potrebbe esserci gas Maschere Via Facciamolo C'è una paura a porle, eh? Che cazzo Hanno staccato la corrente Usiamo le torce Con me Che figata Qui dentro è buio pesto Sentito Chiunque abbia staccato la corrente Qui Di sicuro Cazzo Trovatelo Ho una paura che viene Qualcuno e mi Mi dà una cortellata Che c'ho paura Folle, ragazzi Tipo Outlast Cazzo Pezzo De merda Porco Che anima fatto Cagamano Ragazzi Guarda che merda Questa sta sopra Via libera Attacchiamo la corrente Facciamo luce Troviamo il gas Ricevuto 3-1 Cerco Ok Cerco l'interruttore Ridiamo corrente Troviamo il gas E andiamo via da qui Corrente in arrivo Che stritta, ragazzi Corrente Ehi C'è un problema Questi sono militari russi Spetsnaz 3-1 a Watcher Barco fa a soldato degli Spetsnaz Abbiamo ucciso militari russi Dobbiamo filarcela Negativo Per il comando La missione è prioritaria Non c'è scelta Ovvio 3-1 Chiudo Controlla che scelta E abbiamo il camion Per l'uscita Ok Il tampone Bingo Gas identificato Ricevuto forte e chiaro 3-1 Caricate e rientrate alla base Davanti o dietro ragazzi Ve lo date uno strappo Regà Niente Ah ok Vado con la gippetta Io pensavo andavo col camion Col gas Vabbè Eccolo Eccolo Andamola A tutte le unità Siamo in movimento Verso il punto d'incontro Massima allerta Ottimo lavoro Alex Adunata al punto d'incontro Per l'uscita Benissimo Un bel agguato Con l'RPG Cuocere 3-1 Sedi Alex Mi fanno Ci sono 3-1 Ci sono Chi cazzo sono Si dice C'è Mi chiamato Mi chiamato Marini Mi chiamato Veneto Mi chiamato Mi chiamato Farran 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 Fallo Fallo L'ECO 3-1 a Watcher. Alex, cosa succede? Un attentato. Diversi marini uccisi. Gas rubato, venite subito a prenderci. Ricevuto. Rilevo parecchie forze russe dirette verso di voi. Tenete duro, veniamo a prendervi. Watcher, chiudo. Quest'operazione è stata compartimentata. Ma che cosa cazzo vuol dire? Che non hai più autorità, colonnello. Quelli sono i miei marini. Lì serve una forza di intervento rapido. Questo non è consigliabile. Laswell, non sta a te decidere. Colonnello, Laswell. Generale, i miei uomini... Norris, dacci un minuto, ok? Sì, signora. Abbiamo un problema. Il Cremlino ha sospeso le comunicazioni diplomatiche. La sesta flotta avanza nel Mar Nero e le armi chimiche sono chissà dove. Stai lasciando dietro di te troppe tracce, Laswell. Rimedia. Generale, l'intelligence è la nostra arma migliore. Abbiamo già provato l'intelligence. Dammi qualcosa di meglio. John. Laswell. Dove sei? Al lavoro. Ho un problema. Russi? Le voci corrono. Le armi chimiche sono in mano ai terroristi. Non so dove siano Parigi e New York. Londra. Quando il briefing? Appena fatto. Bello, Bryce mio. Sergeant, rispondi. Qui, Garrick. Massima allerta terroristica. Possibili assalitori multipli. Camicazio, forse peggio. Abbiamo cecchini in posizione. No, negativo. Non deve scoppiare il panico. I terroristi sono d'accordo? Garrick, non trasformare Londra in una zona di guerra. Chiaro? Sì, capito. Chiudo. Sembra che siamo da soli. Andrà bene. Diamoci da fare, ok? Ok. Sergente. Occhio. Armi in vista. Sono loro. Saber Raven, furgone bianco, diversi uomini in età militare, armi visibili. Intercettiamo. Ricevuto. In attenza di attacco, non ingaggiate. Furgone bianco. Sistere. Che figata. Ragazzi, allora. Primo episodio lo terminiamo qui. Veramente molto bello. Già apparso il price. Già nuovi personaggi come Alex, Kyle, Loswell. Ne vedremo delle belle. Prossima missione. Ci catopulteremo a Londra. Ciao. Ciao.